Fai il primo passo per entrare nel mondo della moda, spettacolo e arte con il concorso Miss Gocce di Stelle. Sono aperte le iscrizioni alla diciottesima edizione. Per maggiori informazioni vai su missgoccedistelle.com oppure sulle pagine social. Miss Gocce di Stelle è un format dell'agenzia MADAS. Per info telefono e whatsapp 393 68 11 890 e 333 2309 677. Miss Gocce di Stelle, protagonisti di un sogno.